Cyber Security e Privacy, oggi un convegno qui alla sala polifunzionale della provincia di Teramo organizzato dall'SI Consulting per parlare di sicurezza, come garantire la sicurezza rispettando la privacy. Sì, questo convegno è stato creato in modo tale da poter unire sia la parte legislativa della privacy così come anche riportando le ultime normative della privacy europea e con la tecnologia, quindi con la Cyber Security che oggi come oggi è un argomento molto sentito sia dalle aziende che dai privati e addirittura anche dall'amministrazione pubblica. La Cyber Security non è un software che si installa sul computer in modo tale da poter salvaguardare l'azienda ma è un pacchetto dove vengono sviluppate da tecnici, da specialisti, vengono sviluppate delle tecniche, dei sistemi per poter salvaguardare e proteggere l'azienda. Da proteggere che cosa? Da tutti gli attacchi informatici che ci sono, dal semplice virus che adesso va in giro che cripta gli hard disk e che adesso si è sviluppato, che non cripta più solo...